Nella parte più bassa della scalinata si può vedere come questo monumento del Liberty era prima dell'inizio dei lavori. Secondo il consigliere comunale Baldino, una vittoria è quella che è stata raggiunta da questa amministrazione che è riuscita a salvare uno degli alberi presenti nella parte superiore della scalinata e per il restauro conservativo che è in programma. Sentiamo invece che cosa ne pensano i membri del Comitato. La scalinata è vero che è stata già in parte devastata dall'amministrazione precedente però è anche vero che ci sono ancora due alberi nella parte superiore e quella interessata ai lavori che potrebbero essere salvati senza neanche troppa difficoltà. Con una piccola variazione al progetto dei sottoservizi si potrebbe salvare l'albero centenario che è un albero bellissimo che è tra l'altro uno dei pochi alberi che fa parte dell'impianto originario della scalinata perché è stato piantato nel 1905 e ha un albero di circonferenza di 2,60 metri che non aveva problemi finché non sono cominciati i lavori perché noi l'abbiamo fotografato, l'abbiamo anche pubblicato nel libro delle scalinate è un albero che fino al 2012-2013 non aveva nulla, non aveva nemmeno il puntello esistono dei puntelli anche invisibili, si possono rivestire di legno e dunque non hanno nessun tipo, nessunissimo tipo di impatto monumentale la scalinata ricordiamo è vincolata e dunque si suppone che sulla scalinata non debbano essere fatte superfettazioni o strutture ingombranti però il puntello che tra l'altro è una struttura mobile non può rientrare in questa categoria ricordiamo che tra l'altro il puntello viene messo a questo albero dopo che sono stati fatti degli scavi per i sottoservizi sotto le radici perché prima l'albero era in condizioni perfette, è un albero che si potrebbe utilizzare come fanno in tante città mettendo un cartello con la sua storia, con la sua età e facendolo visitare i turisti che già ora vengono su scalinata Cernaia a fare le foto e il comitato ritiene che si debba e si possa in maniera anche abbastanza semplice trovare una soluzione per salvare anche l'albero centenario Quindi di fatto il comitato propone una soluzione alternativa? Sì, noi già mesi fa avevamo chiesto all'assessore incaricato di fare un incontro con la sovrintendenza per cercare di capire che soluzione si poteva trovare però questo incontro non è stato fatto, vedremo se nei prossimi giorni si riuscirà a organizzare l'incontro con la sovrintendenza